buongiorno gente allora prima di tutto pollicione iscrizione campanile nella condivisione perché mi sembra giusto dobbiamo crescere ragazzi perché ce n'è bisogno vista la situazione sono comparsi per ora solo le lavorazioni nel senso che io con chiesto un attimo già di controllare anche una delle persone che seguiamo e effettivamente c'è la lavorazione di ottobre c'è la cifra ma anche altri dati vorrei ricordare che è già successo un'altra volta alcuni mesi fa prima che comparissero i dati di rendicontazione invio addirittura essere andati al giorno proprio in cui c'erano le ricariche anzi io non so neanche io come definire l'inps ecco perché ho guardato i vostri messaggi alcune ho visto che il cuore è partito subito perché cercavo di seguirmi fanno comparire le informazioni alla una poi le tolgono poi le rimettono poi le tolgono non vi avviso che magari potrebbero scomparire e comparire ancora oggi ecco per dire come sta lavorando bene l'inps quindi chi vede la comparsa della data di invio disposizione apposta e lo scrive sotto questo video io purtroppo oggi sono parecchio impegnato per avviso e cercherò di rispondere quando posso anche già che in biblioteca per cui anche i suoi di problemi di tempo magari però penso che non sia più accettabile questo livello di ignoranza di incompetenza ha fatto bene luigi ricordarmi di suggerire il video che ha fatto mister luglieri un alessandro molto più pacato di me e vi faccio dico che mi sono calmato un po perché se avessi fatto il video quando ho risposto a pia sarebbero volate parole che meglio non dire però bisogna dirlo qui siamo un livello di inefficienza imbarazzante cioè avete cambiato l'ora in cui inviati i dati benissimo avvisare no ormai l'inps non avvisa su niente per questo vi dico appena vedete comparire disposizione a poste avvisate voi sperando che compaia oggi se no domani si va all'avventura cioè dopo la una si va a controllare se ci sono questo qui è il livello di qualità del lavoro dell'inps e perché mi incazzo perché quel giuro il primo che mi scrive sotto e ma non si fanno battute di body eccetera eccetera mi incazzo anche con lui perché qui si è superato il limite quella specie di barattolo di brunetta ha fatto i complimenti a tridico allora brunetta era uno che qualche mese fa a tridico gliela dette di tutti i colori io capisco che deve accasarsi e bacerebbe allora bacerebbe più chiappe lui di un'attrice ardi in una gang bang però c'è un limite al rispetto e qui ribadisco si rispettano le persone che ti rispettano qui stiano prendendo in giro milioni di persone e non riguarda solo le rdc riguarda le pensioni riguarda rem riguarda le naspi riguarda tutto e tu fai complimenti al responsabile di questo macello semplicemente perché ormai forza italia è defunta ti vuoi accasare in qualsiasi modo in qualsiasi buco tanto un buco per te lo si trova non ci vuole non serve grande spazio ma veramente ma la vergogna sapete dove sta di casa ora è un concetto che per voi è latitante hai fatto il complimento una persona che qualche mese fa vi insultato una persona che fattualmente sta facendo un lavoro di guano e che ha avuto anche la ghigna di ringraziare gli utenti per il miglioramento dell'inps e veramente prendere in giro le persone e ora basta io sinceramente se c'è qualcuno che vota ancora forza italia non la voti più perché se questo qui è il front dove dire frontman ma difficile non è più accettabile non è più accettabile vedere gente così vedere gente che non ha neanche la dignità delle proprie opinioni tra l'altro rimanisco questo efficientissimo sistema tanto per cambiare sta colpendo ancora una volta i pensionati con invalidità parziale per cui o lavori o prendi la pensione pensione di ben 288 euro c'è proprio da scialare la stefani che non ho capito cosa ci fa lì è un soprammobile umano che adesso parlerà con l'anmi e cosa gli vuole dire che non sono capaci di gestire le cose che si riempiono la bocca di slogan non lo so ma c'è un veramente un limite oltre cui non si deve andare questo limite si chiama dignità e questo non è un problema della politica ma della persona quando una persona non ha dignità non votatela più non consideratela più scusate mi sono calmato molto perché se avessi detto esattamente quello che volevo dire allora appena vedete comparire le disposizioni per domani avvisate tutti quanti altrimenti domani ribadisco dopo la una ognuno dovrà tentare di verificare se sono partite le ricariche questo è il livello del lavoro dell'ips e quel lecca posteriori tanto non fa fatica l'altezza è quella ha avuto il coraggio di fare i complimenti a tridico ricordatevelo tutti voi e fate girare questo video perché venga ricordato che questo personaggio questo maleducato cialtrone arrogante ha detto queste cose perché questi l'unico modo dovete per abbastonarli e nei secchi elettorali buttateli fuori dal parlamento ora vi saluto ciao buona giornata e comunque fatemi sapere io cercherò di verificare le vostre informazioni magari mettere un post avvisata anche l'aena mi raccomando ciao